La Regione Abruzzo ha stanziato un milione e mezzo di euro per i comuni che vorranno associarsi per la polizia locale e per altri servizi. Sì, abbiamo fatto la delibera di giunta ieri, un'iniziativa che è voluta fortemente. L'esigenza è nata dal fatto che tanti comuni, soprattutto quelli più piccoli, sotto a 5.000 abitanti, non hanno neanche un organo di polizia locale. Quindi viene a mancare un servizio importante anche a livello di sicurezza per questi territori. Leggiamo tutti i giorni notizie di furti e quindi con questa somma, che è una dotazione finanziaria molto rilevante, vogliamo incentivare quei comuni ad associarsi. Come ad esempio quei comuni che hanno già lo stesso segretario comunale. Sì, esattamente. Sulla falsa riga di questa progettualità vogliamo fare la stessa cosa per la polizia locale. La polizia locale è che stiamo cercando di sostenere perché riteniamo che sia un organo fondamentale, tant'è che è stato istituito l'osservatorio regionale della polizia locale, anche il comitato consultivo abbia fatto un nuovo regolamento, perché è sempre più importante. Si sono contraddistinti anche nel Covid. Però vogliamo andare incontro alle esigenze di quei comuni più piccoli che purtroppo non hanno neanche un organo. Anche in prospettiva dell'arrivo dell'estate con tante manifestazioni sicuramente serve un vigile urbano affinché possa garantire la sicurezza, ma anche la logistica, anche tanti turisti che arrivano, è un punto di riferimento. Il prossimo step sarà un bando. Si esce questo avviso, i comuni possono rispondere e proporre una progettualità che riguarda l'associazionismo tra i comuni. I tempi sono brevi? Sì, ieri c'è stata la delibera, l'avviso è pronto, sarà pubblicato, diamo un termine congruo affinché possano fare questi progetti. Spero che ci sia una risposta positiva perché è un servizio che vogliamo garantire ai tanti cittadini che hanno bisogno di un sostegno.